parliamo di calcolo letterale qui abbiamo due oggetti sommati a tre oggetti scritti con simbolismo chiaramente sono due mele più tre fragole rimangono elementi separati vediamo che gli oggetti sono distinti diversamente qui invece cinque mele più tre mele il risultato corrisponde 8 mele questa rappresentazione con elementi anticipa quello che è il calcolo letterale effettivamente uno può pensare di sostituire probabilmente alla mela qualunque lettera in questo caso potrebbe essere letterale lettera b normalmente cinque a più tre a ad a come risultato otto a noi sommiamo la parte numerica naturalmente non la parte letterale e questa analogia serve appunto a chiarire quello che è il concetto di calcolo letterale quindi quella che è la somma diciamo di monomi qui scriviamo che ricorda puoi sommare fra loro degli oggetti solamente sono dello stesso tipo sia monomi che hanno la stessa parte letterale definiti monomi simili quindi l'alunno facendo riferimento a questa rappresentazione diciamo visiva che usa appunto la mela la fragola come elementi da sommare passa a quest'altra rappresentazione diciamo che risulta essere algebrica in cui al posto della mela io sussisco la lettera al posto della fragola lettera b quindi diventa due a più tre b che corrisponde alla prima relazione stabilita non si possono sommare quindi questa rimane tale diversamente due a più tre a corrisponde a cinque mele più tre mele risultato è nel nostro caso è due più tre cinque a mentre qui cinque più tre otto a comunque è possibile effettuare la somma tra monomi cosiddetti simili e qui possiamo semplificare un attimo l'operazione di calcolo quindi possiamo mettere per semplificare cinque e qui possiamo mettere tre come risultato abbiamo naturalmente otto questo per consentire una analogia naturalmente con la rappresentazione diciamo che abbiamo fatto qui quindi cinque più tre otto e anche qui cinque a più tre uguale a otto a passiamo un attimo alla slide successiva qui diciamo che la somma di tre monomi si chiama polinomio vediamo che c'è il binomio sono due monomi trinomio tre monomi quadrinomio e via dicendo è un polinomio di terzo grado perché vediamo che questo è un monomio di secondo questo di terzo e questo di secondo quindi il grado del polinomio è il grado del monomio più alto terzo grado se vogliamo calcolare il suo valore per a uguale a meno tre e b uguale a meno due si chiede spesso all'alunno di calcolare il valore del monomio assegnando le lettere dei valori numerici deve semplicemente sostituire ad a il valore meno tre e a b il valore meno due guardiamo l'operazione in questo caso ad a sostituisco meno tre quindi diventa tre per meno tre tra parentesi al quadrato ad a e b sostituisco meno tre meno due ma l'alunno deve prestare attenzione a ricordare che alla lettera a si sostituisce meno tre e la mettiamo tra parentesi questa sostituzione mentre alla lettera b meno due ma ricordiamo che c'è un esponente che eleva appunto meno due al quadrato come anche qui b quadro e meno due al quadrato il risultato di questa operazione aritmetica è appunto 55 quindi diciamo che il polinomio assegnato dando ad a il valore meno tre e a b il valore meno due vale 55 possiamo anche pensare a una formula applicata in fisica o ad altre discipline in cui si debba assegnare a dei valori letterali diciamo dei valori numerici quindi si chieda di calcolare naturalmente il valore che assume questa benedetta formula qui abbiamo un altro memorandum ricordiamo che se ho più fuori dalla parentesi e dentro l'elemento positivo si conserva il segno il segno meno concettualmente fuori dalla parentesi cambia il segno a ciò che è dentro la parentesi il segno più non cambia il segno vediamo che il numero 5 conserva il segno se fuori c'è più dalla parentesi cambia il segno se fuori c'è il meno cambia il segno guardando quello che c'è dentro la parentesi quindi qui abbiamo meno 5 col segno meno diventa più 5 qui abbiamo più 5 col segno meno diventa meno 5 questo è importante segno fuori dalle parentesi poi qui abbiamo il monomio con tutti gli elementi da cui è formato meno 3 intanto il meno il segno del monomio 3 è il numero la parte numerica a, b sono le lettere, a quadro, b cubo e la parte letterale è un monomio di quinto grado la somma degli esponenti da grado 5 totale grado 2 rispetto alla lettera a, grado 3 rispetto alla lettera b, grado 5 è il grado totale del monomio qui abbiamo dei monomi interi, interi perché le lettere sono solo al numeratore non sono al denominatore e quindi ad esempio la lettera b quadro sta al denominatore e quindi è il monomio frazionario ricordiamo che b alla meno 2 è equivalente a b alla 2 le lettere compaiono al denominatore il prodotto di monomi è come si esegue? si esegue prima il prodotto della parte numerica quindi meno 5 per meno 2 la faccio qui poi al cubo per a quadro delle stesse lettere vediamo che qui abbiamo b per b cubo di c per c quadro vengono affiancate le stesse lettere e poi ricordiamo la proprietà delle potenze si sono gli esponenti delle stesse lettere della stessa base 3 più 2 è 5 alla quinta 1 più 3 è 4 più alla quarta 1 più 2 è 3 è la terza di alla seconda quindi un monomio di che grado? 5 più 4 è 9 3 più 2 è 5 9 più 5 è grado 14 qui abbiamo invece sotto riportiamo altri prodotti tra monomi fatti rispettando la regoletta che si esegue prima il prodotto della parte numerica quindi qui è meno 27 quinti e 18 ricordiamo che se vogliamo si può fare prima il prodotto dei segni quindi qui meno per meno è un più e anche qui meno per meno è più poi 3 per 6 è 18 a per a alla seconda si sommano gli esponenti b rimane solo e x alla seconda rimane solo se passiamo qui abbiamo 9 per 3 è 27 per un quinto meno 27 quinti perché c'è un segno meno che non è stato messo poi a diventa alla sesta perché abbiamo alla terza per la seconda per a diventa alla sesta b è solo e poi abbiamo x alla seconda ricordiamo che nel prodotto tra monomi quindi l'ordine a seguire è prodotto dei segni prodotto della parte numerica prodotto della parte letterale ricordando che là dove abbiamo potenze con la stessa base come qui alla terza alla seconda si dovranno sommare gli esponenti qui prodotto di un monomi per un polinomi vediamo che si fa 3x per 4x lo scrivo qua poi 3x per meno 5y lo scrivo qua il risultato è 12x alla seconda ricordiamo che sono gli esponenti e qui 15xy qui un prodotto di due polinomi si farà 3x per x e 3x per meno 2y con la solita regola che si fa il prodotto prima dei segni poi dalla parte numerica e poi dalla parte letterale poi abbiamo y per x e y per meno 2y che fa meno 2y quadro ricordiamo che qui poi dovremmo sommare questo con questo che sono simili meno 6xy più xy fa meno 5 perché si somma la parte numerica qui abbiamo i monomi simili sono quelli che hanno la stessa parte letterale ecco è importante ricordare questo che tutte le volte che abbiamo davanti un monomio simile la parte letterale che si deve guardare è questa quindi l'alunno dovrà prestare attenzione alla parte letterale quindi tutti questi tre sono monomi simili monomi opposti invece hanno la caratteristica di avere sono monomi che hanno se vogliamo sono uguali ma quello che cambia è il segno quindi 2 al cubo b quadro c e meno 2 al cubo sono monomi opposti perché la loro somma algebrica è 0 quindi cambia il segno in questi monomi monomi uguali il segno invece rimane invariato somma algebrica di monomi si segue col concetto che pensando all'esempio introduttivo mele e fragole possiamo sommare le grandezze omogene quindi monomi simili in questo caso x quadro x quadro x quadro sono tre monomi simili dovrò fare 5 più 6 meno 9 risultato è 2x alla seconda e la stessa cosa qui io uso dei simbolismi per indicare i monomi simili guardiamo che si riportano i simbolismi gli stessi monomi laddove questi non si possano sommare mentre un terzo meno 2 viene fatta una somma algebrica perché ax quadro si presenta in questo monomio e in questo monomio che verranno sommati questa è una somma di monomi monomi opposti ricordiamo che hanno come somma sempre 0 potenza di un monomio questa è la potenza di potenza ecco qui si fa meno 2 al cubo e meno 2 per meno 2 per meno 2 che fa meno 8 poi si fa 4 per 3 12 3 per 3 9 e 2 per 3 6 questa è la potenza qui abbiamo la regola naturalmente 1 per m m b elevato a 1 per m b alla m c elevato a 1 per m c alla m qui invece si fa il prodotto degli esponenti per quest'altro esercizio si ripete il procedimento meno 3 per meno 3 fa più 9 3 per 2 6 alla sesta 2 per 2 4 b alla quarta e qui abbiamo c alla seconda quoziente di monomi è un'operazione molto semplice diciamo che si tratta a differenza della moltiplicazione non di sommare gli esponenti di potenze con la stessa base ma di sottrarre gli esponenti di potenze con la stessa base praticamente uno può trasformare questa divisione in questo modo equivalente e semplificare manualmente le stesse lettere ovvero farà più 12 diviso meno 15 che fa meno 4 quinti poi alla quinta alla seconda si fa 5 meno 2 è 3 qui si fa la differenza di esponenti b alla seconda fratto b è b elevato a 2 meno 1 che fa b e c meno c è c fratto c è c elevato a 0 che fa 1 ricordiamo che qualunque lettera arrivata a 0 è uguale a 1 qui invece la differenza di un polinome per un monome quindi la distributiva divideremo 6x al cubo per meno 2x e meno 12x al quadro per meno 2x e lo facciamo qui e qui applichiamo la divisione tra monomi che abbiamo applicato precedentemente come differenza di esponenti di potenza mentre la stessa base quindi 6 diviso meno 2 fa meno 3 ma x al cubo fratto x è x elevato a 3 meno 1 che fa x alla seconda e anche qui meno 12 diviso meno 2 fa 6 e x alla seconda fratto x è x elevato a 2 meno 1 che fa x quindi meno 3x è la somma algebrica naturalmente allora il risultato abbiamo detto qui diventa x al quadro uguale a meno 3x correggiamo qui l'errore quindi diventa meno 3x al quadro in questo caso e quindi qui andrebbe posto un esponente 2 mettiamo un esponente 2 quindi è meno 3x al quadro e poi dobbiamo sommare più naturalmente più 6x e il risultato quindi è meno 3x al quadro più 6x e per cui non è possibile effettuare una somma naturalmente algebrica di questi monomi perché non sono monomi simili andiamo avanti con la slide diciamo allora con questa ultima slide terminiamo la video lezione diciamo che è uno schema molto sintetico e essenziale di quelle che sono le operazioni elementari con i monomi per ulteriore materiale di approfondimento si invita l'alunno a consultare il sito matepetracca.blogspot.it dove troverà appunto degli esercizi guidati e ulteriore materiale integrativo appunto a queste video lezioni e comunque altro materiale caricato sulla playlist classe prima bt fine della video lezione di